ed eccoci siamo qui al tarantino forse il più esclusivo ristorante dell'incosher di skydness e questo è quello che i clienti nostri ci portano questo è un esemplare unico al mondo della austin marty triniton credo sia uscita quest'anno qualcosa come 200 mila sterline ecco qui andrea giorgio guardate qua solo questo cerchione lega in carbonio credo costi tutta la mia giacqua ecco qua queste sono le turbine la manchisce nuova a carbonio ecco qua gli interni tutto comandato ovviamente scappa di scappamento marchio strommati che come la giacqua lo differenzi tutto il mondo e questo è quello che abbiamo vicino anche a questa attenzione i nostri clienti esclusivi del tarantino che scelgono noi da londra da new york dalla russia da quasi mezzo mondo e ci portano questi gioielli guardate qua questo è l'interno l'ora è guarda qui l'ora è mamma mia che bello guarda allora no è un video lo sto fare mio fratello guarda 200 mila sterline ecco l'ora di qualcosa due fans questo è lo chef lorenzo di grossa dalla sardegna aspetta l'ora è certo